Giudiziaria, pediatra condannata ad un anno e mezzo per la morte, la morte della piccola Sara. Non piace ai commercianti l'ipotesi di limitare il traffico in via d'annunzio. Politica da Pescara, il nuovo centrodestra lancia l'allarme, chiodi rischia di non avere il nostro appoggio. Autismo, la regione punta a migliorare l'assistenza e il centro storico si colora di blu. Viabilità, l'Italia dei valori con sacco, denuncia, con le elezioni ci sono stradi serie B. Calcio, Masullo brinda il primo gol in bianco rosso e invita la tifoseria a festeggiare. Buon pomeriggio, bentornati all'appuntamento con la prima edizione del nostro telegiornale. Condanna per la pediatra, assoluzione per l'anestesista. E questa la sentenza emessa dal Tribunale di Teramo preseduto dallo giudice Giovanni Cirillo sul caso della piccola Sara Rapini, la bimba di Tortoreto, morta a tre anni nel dicembre del 2009 dopo un ricovero in ospedale. Un anno e mezzo di reclusione ed una provisionale di 200 mila euro sono stati inflitti a Mariangela a Ferrari, al pediatra che si trovava in servizio al Val Vibrata di Sant'Omero quando i genitori della piccola arrivarono in ospedale. Sara accusava forti dolori addominali e febbre alta. Qualche ora dopo il ricovero morì mentre veniva trasferita in ambulanza all'ospedale Salesi di Ancona. Omicidio colposo, la contestazione dalla quale è stato assolto invece per non aver commesso il fatto, l'anestesista Pietro Dursi. Diverse le ipotesi sulle cause del decesso analizzate durante il processo che si è celebrato nel Tribunale di Teramo, dalla leucemia all'avvelenamento da funghi, ma la più verosimile sarebbe stata quella della disidratazione e comunque di una negligenza del medico intervenuto. Sulla piccola non venne effettuato un prelievo sanguigno e somministrato una soluzione che non fu sufficiente per far riprendere la piccola. Cambiamo completamente argomento a Teramo adesso. L'ipotesi di limitare il traffico in via d'annunzio non piace ad un nutrito gruppo di commercianti e residenti che scrive al sindaco non penalizzate il commercio, dicono al primo cittadino il servizio. No alla chiusura al traffico di via d'annunzio a Teramo, lo dice la maggior parte dei commercianti della via. I commercianti e alcuni residenti hanno raccolto oltre 30 firme che sono state inviate al sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi. Sì, esatto. Le abbiamo raccolte perché riteniamo non sia una cosa positiva e comunque non utile in questo periodo in cui magari la crisi si fa sentire un pochino di più in generale e pensiamo che la chiusura al traffico potrebbe solo esclusivamente danneggiarci da questo punto di vista. Il sindaco ha ricevuto le firme perché voi avete avuto indietro la ricevuta di ritorno della raccomandata. Ho avuto, mi è tornata indietro la ricevuta qualche giorno fa quindi sicuramente la lettera è stata ricevuta e suppongo anche protocollata perché appunto ho avuto indietro la ricevuta quindi sicuramente loro sono a conoscenza di questa nostra volontà di opporci a questa chiusura. Quando è che avete saputo che era intenzione dell'amministrazione comunale prendere in considerazione per il momento la chiusura al traffico di via d'annunzio? All'incirca un paio di settimane fa in seguito ad una riunione che è stata fatta alla quale purtroppo molti di noi tra cui anch'io non abbiamo partecipato, molti perché molti di noi non avevano ben capito che si trattava magari di una riunione durante la quale si sarebbe parlato di questa cosa, molti non hanno potuto per impegni personali e però in seguito a questa riunione abbiamo saputo che c'era questa volontà, questa idea di chiusura al traffico e siccome non siamo appunto d'accordo pensiamo di fare questa cosa appunto per opporci a questa chiusura. Cosa vi aspettate? Di essere almeno ascoltati e presi in considerazione anche perché pensiamo anche di essere un numero abbastanza inutile ma anche perché da sottolineare che le firme le ho raccolte sia da parte dei commercianti proprio di questa via ma anche delle vie limitrofe e anche loro addirittura pensano che nonostante non si trovino proprio sulla via in oggetto però possano essere anche loro danneggiati quindi penso che sia una cosa abbastanza importante da dover essere comunque presa in considerazione e comunque ascoltata, almeno questo. E adesso a Pescara il nuovo centrodestra mette in dubbio l'appoggio alla candidatura di Gianni Chiodi alla presidenza della regione Abruzzo e non esclude di proporre un proprio candidato. Lo comunica la senatrice Federica Chiavaroli, vice capogruppo del nuovo centrodestra Palazzo Madama e coordinatrice del nuovo centrodestra Abruzzo. Vediamo. Il nuovo centrodestra mette in dubbio l'appoggio alla candidatura di Gianni Chiodi alla presidenza della regione Abruzzo e non esclude di proporre un proprio candidato. Si prefigura dunque uno scenario clamoroso dopo le parole pronunciate dalla senatrice Federica Chiavaroli, vice capogruppo del nuovo centrodestra, a Palazzo Madama e coordinatrice del nuovo centrodestra Abruzzo. A creare a credine è una vicenda ormai più che nota. Tutto è legato alle candidature per il comune di Pescara che hanno decisamente spaccato la coalizione. Il nuovo centrodestra ha entrambi i piedi ben piantati nel centrodestra e considera la sinistra un avversario da battere alle elezioni, scrive la Chiavaroli in una nota. Lo stesso non può dirsi, prosegue la senatrice, per Forza Italia che a Pescara insiste con la candidatura del sindaco uscente Luigi Albore Mascia, pur non avendo il sostegno di nessuno dei partiti della coalizione di centrodestra. Appare chiaro, a questo punto, che Forza Italia non propone tale candidatura per battere la sinistra alle elezioni, ma solo per impedire a Guerino Testa, candidato sindaco proposto dal nuovo centrodestra, di vincere le elezioni con una coalizione di centrodestra unita. Invito il presidente regionale di Forza Italia, Nazario Pagano, a non compiere tale gesto altamente irresponsabile, che avrebbe gravi ripercussioni anche sulle elezioni regionali, per le quali il nuovo centrodestra valuterà se appoggiare il candidato uscente Gianni Chiodi oppure proporre un proprio autorevole candidato, conclude la Chiavaroli. Maggiore attenzione per la viabilità delle località dell'entroterra Terramano, a chiederlo al presidente della provincia il consigliere dell'Italia dei Valori, Mauro Sacco, che aggiunge il problema è anche legato alla mancata sostituzione dell'assessore ai lavori pubblici e alla viabilità. In provincia Terramo, dopo le dimissioni di Elicio Romandini, che si è candidato a sindaco a Sant'Egidio alla Vibrata, non è ancora stato nominato il nuovo assessore ai lavori pubblici. Secondo l'Italia dei Valori, la mancanza di questa figura crea grossi disagi, soprattutto per quanto riguarda il problema delle strade. Sì, sono circa tre mesi che l'assessore Romandini per concorrere a uno scranno alla regione si dimise appunto dall'assessore per poi ritrovarcelo improvvisamente candidato a sindaco del centro-destra alla Comune di Sant'Egidio. Vabbè, questi sono i misteri della politica. Comunque, quello che noi sottolineiamo è il fatto che il presidente ha dovuto assumere ad interim questa carica, la carica dell'assessore ai lavori pubblici e alla viabilità. Mentre appunto la situazione delle strade provinciali è veramente allo stremo. Le strade provinciali, specialmente quelle delle aree interne, sono veramente una situazione di grande, di grande abbandono e di grande precarietà. Va detto anche che le province sono di fatto al capolinea, dunque questi problemi rimarranno tali. Questi problemi saranno ancora più amplificati prossimamente, però al momento ci consta che sono arrivati circa 20 milioni relativi all'alluvione e di questi 20 milioni nella progettazione degli uffici della provincia poco nulla è destinato alle strade interne, ad esempio alla 491 con un'arteria grandissima che parte da Montorio, attraversa Tossicia, Castelli, Colledar, eccetera, nulla è stato destinato. Quando noi sappiamo invece che per la 259, guarda caso la strada di riferimento dell'ex assessore romantino, diciamo di pertinenza elettorale, è in fase di arrivo. Voi dunque cosa chiedete? Noi chiediamo che ci sia veramente una maggiore attenzione a quelle che sono le aree interne. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Giulianova hanno arrestato un giovane incensurato di Rosseto di 26 anni per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 26enne è stato trovato in possesso di una dose di eroina acquistata poco prima e ciò ha fatto scattare la perquisizione nell'abitazione del giovane dove i carabinieri hanno rinvenuto 6 grammi di eroina già suddivisa in dosi, 2 bilancini di precisione e 4 pasticche di subutex, oltre a materiale per il confezionamento e denaro, probabilmente provento dall'attività di vendita. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. La Regione Abruzzo ha recepito le linee di indirizzo per migliorare l'assistenza a chi soffre di autismo. Con l'introduzione dei livelli essenziali di assistenza si punta a migliorare qualità e appropriatezza delle cure sanitarie per questa patologia. Sentiamo. La Regione Abruzzo ha recepito le linee di indirizzo nazionali per la promozione e il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali sull'autismo con l'introduzione di LEA ai livelli essenziali di assistenza anche per questi disturbi. Lo ha ricordato il Governatore Gianni Chiodi, Commissario alla Sanità in occasione della settima giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo. C'è bisogno di soprattutto affrontarlo in età giovanile, questo è molto importante, oltre che nell'età più avanzata, ma soprattutto da quando si è molto giovani, molto piccoli c'è la possibilità anche di migliorare le situazioni. Abruzzo ha cercato di lavorare molto su questo e adesso abbiamo anche aderito alle linee guida nazionali che non sono tutte le regioni italiane che l'hanno fatto, per cui tutto ciò che sarà la costruzione della presa in carico del ragazzo o della ragazza autistica sarà di maggiore qualità e di maggior livello. Io su questo sono molto contento e è una cosa sulla quale ho voluto lavorare in questi anni perché veramente è una patologia molto subdola e che può essere migliorata, mentre prima era assolutamente trascurata e quindi io credo che nei prossimi anni l'Abruzzo possa distinguersi anche per quanto riguarda l'attenzione a questa patologia. L'autismo sotto riflettori con l'iniziativa della Fondazione Anfas e il Centro Servizi per il Volontariato, centro storico colorato di blu con palloncini, tanti bimbi e un appello. Stateci vicino. La suggestione indotta dal blu che ha colorato il centro storico dai negozi alla cattedrale all'abbigliamento di chi è risposto presente all'appello ha dominato e reso tangibile la partecipazione all'iniziativa della Fondazione Anfas e del Centro Servizi per il Volontariato di Teramo. Il lungo serpentone colorato di blu con tanti bimbi e tanti palloncini ha reso protagonisti per un pomeriggio chi con l'autismo convive e combatte, dai piccoli ai genitori. L'adesione all'iniziativa che si è snodata per il centro storico per concludersi in Piazza Martiri nella scenografia della cattedrale illuminata è stata importante. Accanto ai familiari e ai volontari anche i calciatori del Teramo e del San Nicolò, i giovani di Mix Factor con la madrina dell'iniziativa, l'imprenditrice Tiziana Di Sante e l'assessore Guido Campana, a cui l'Anfas ha consegnato un riconoscimento per la costante presenza di solidarietà. Arriva la connessione Wi-Fi Free in tutti i comuni abruzzesi per consentire a cittadini e turisti di connettersi alla rete gratuitamente. Sentiamo. Internet Wi-Fi gratuito in tutti i 305 comuni abruzzesi per consentire a cittadini, turisti e studenti di connettersi alla rete. Lo prevede il progetto 305 Wi-Fi Free in via di realizzazione promosso dall'assessorato allo sviluppo economico della regione Abruzzo. Nei giorni scorsi i comuni, che saranno dotati di un hotspot wireless nelle piazze o nei principali luoghi di aggregazione, hanno ricevuto le relative convenzioni. Poi partiranno i lavori di installazione e in tempi brevi il progetto diventerà realtà. L'iniziativa, l'investimento di circa 1800 euro a comune, rientra negli interventi previsti dalla regione nell'ambito del piano strategico in materia di banda larga, in linea con l'agenda digitale europea ed italiana, con l'obiettivo di ridurre al massimo il cosiddetto digital divide sul territorio regionale e garantire un'omogenea diffusione dei servizi digitali. Il progetto è finanziato con le risorse del PORFERS 2007-2013. I servizi saranno erogati attraverso i due data center dell'Aquila e di Tortoreto. Gli utenti potranno navigare mediante credenziali di accesso dopo essersi registrati al servizio. L'assessore allo sviluppo economico, Alfredo Castiglione, evidenzia come in questi anni sia stato avviato il piano di abbattimento del digital divide con investimenti in fibra ottica. La connessione veloce è già stata attivata in molti comuni d'Abruzzo, in altri lo sarà a breve, in altri ancora sono in corso i lavori, ma c'è ancora molto da fare. Gli ultimi dati, prosegue, ci informano sul fatto che ci si collega ad internet principalmente con telefonini, palmari e tablet. Il nostro prossimo obiettivo, prosegue l'assessore Castiglione, è il wifi gratuito in ogni piazza d'Abruzzo, laddove i cittadini si aggregano per socializzare, potendo connettersi gratuitamente e navigare senza limiti temporali. Del resto l'informazione deve arrivare ad ogni cittadino e possiamo contribuire a questo traguardo dando una risposta concreta al diritto di navigazione libera, finalizzata ad una comunicazione democratica e di massa, al fine di poter meglio erogare informazioni e condividere le sempre più enormi quantità di dati. E adesso ci occupiamo del progetto Status sulla programmazione territoriale. Vediamo. Direttore Sorgi, cos'è il progetto Status e qual è il bilancio dall'inizio, insomma da quale è stato avviato un anno fa e come sta andando in Abruzzo? Il progetto Status è uno studio, un progetto di cooperazione territoriale al quale partecipiamo come partner ed è finalizzato alla definizione di strumenti di pianificazione condivisa col territorio. Quindi sono state occasioni che abbiamo utilizzato questo strumento per veicolare elementi di programmazione e di pianificazione regionale che hanno arrivato sul territorio. Quindi sarà un'occasione per illustrare questa idea guida e iniziare una prima riflessione quindi con la tavola rotonda per la definizione dei piani operativi regionali che dovremmo iniziare a definire quindi col partenariato economico-sociale. Ecco, quali sono gli interventi più urgenti in Abruzzo? Ma qui non si parla di urgenti perché l'ultimitivo non è quello di rincorrere le questioni, ma quello di cercarle di governarle e di cambiare eventualmente, se ci sono delle criticità, cambiarle in una visione di rilancio e di ristrutturazione. Su questi quattro pilastri la definizione dell'area urbana è riferita principalmente ai quattro popologhi su piani di rigenerazione urbana, con una convergenza dei vari fondi di investimento. Questa è la grande novità. Domenica a Montorio, un incontro organizzato dal Partito Democratico per fare il punto della situazione sulla ricostruzione a cinque anni dal terremoto. Parteciperanno tra gli altri il sottosegretario Regnini e il candidato presidente D'Alfonso. Il servizio. Nel giorno della ricorrenza del drammatico terremoto dell'Aquila, ovvero domenica 6 aprile, a Montorio a partire dalle 10 si terrà un incontro proprio sui danni del terremoto. L'incontro si terrà nella sala conferenze degli zoccolanti e parteciperanno tra gli altri alcuni candidati del PD. L'incontro è organizzato dal PD. Sì, questo a cinque anni dal terremoto è un'iniziativa che abbiamo fortemente voluto per far capire l'attività che il PD sta organizzando a tutti i livelli, nazionale, regionale e locale per la ricostruzione in un momento economico non facile sicuramente, ma che vede il nostro partito impegnato a tutti i livelli per far sì che l'importante momento della ricostruzione sia sempre sottoposto all'attenzione delle maggiori cariche politiche. Parteciperanno tra gli altri il candidato presidente alla regione Abruzzo d'Alfonso e il sottosegretario Legnini? Sì, parteciperanno entrambi questi due personaggi che sono molto importanti ovviamente per il PD, l'onorevole Tommaso Ginobili, sottoscritto e il candidato sindaco alle prossime elezioni comunali, Angelo Di Donato Antonio. E' anche un modo per lanciare la campagna elettorale del vostro candidato Di Donato Antonio? Beh sì, sicuramente è un'iniziativa prettamente di carattere politico dove si parlerà dell'importante tema della ricostruzione post-sisme e quindi di una particolare problematica politica che sarà oggetto di tutta la campagna elettorale. Andiamo a vedere adesso gli appuntamenti elettorali. Domani 4 aprile alle 21 il candidato sindaco dei movimenti civici pretuziani Gianluca Pomante incontra i residenti di San Nicola Tordino, ristorante Acqua Marina. Il candidato sindaco del PD Manola Di Pasquale riceve la visita del sindaco di Bari Michele Emiliano per un incontro con i sindaci della provincia alle 17.30 e poi con le rappresentanze sindacali delle banche alle 18.30. In serata parteciperà alla riunione per raccolta contributi in programma l'Arts Factory lungo fiume Vezola dalle ore 19.00. Sempre domani 4 aprile ma alle ore 18.00 al pub White Wolf in Via Delfico presentazione dei candidati alle elezioni europee per la lista L'altra Europa. Con Zipras saranno presenti i candidati Enzo Di Salvatore e Anna Lucia Bonanni. A Giulianova domani alle 20.30 il candidato sindaco Gianluca Amtelli incontrerà i cittadini della zona di Coleranesco e Villa Volpe presso i locali dell'ufficio NIMS. Sabato 5 aprile alle 17.00 il candidato sindaco Francesco Mastro Mauro inaugurerà la sua sede elettorale che si trova a Giulianova Lido in Via Gorizia nel palazzo ex Carusap. E' il momento delle previsioni del tempo con meteoteramo.it Previsioni per oggi in Abruzzo. Al pomeriggio nuvoloso sulle aree orientali, variabile sui marsicci e peninici. In serata e nella notte nuvoloso sui settori interni e sui rilievi, variabile sui settori marittimi. Temperature stazionarie, massime comprese tra 17 e 20 gradi nelle conchie aquilane e marsicane. Tra 18 e 21 gradi sulle pianure adriatiche, venti deboli o moderati sudorientali, mari quasi calmi o poco mossi. In provincia di Teramo giornata caratterizzata da nubi alte e stratificate in transito su tutto il territorio, gradualmente più compatti a partire dalle ore pomeridiane e serali. Non sono previste precipitazioni rilevanti, temperature stazionarie o in lieve diminuzione, massime comprese tra 17 e 20 gradi nelle pianure dell'entroterra. Tra 16 e 19 gradi sulle coste, venti deboli o moderati sudorientali, mari quasi calmi o poco mossi. Siamo alla pagina sportiva, oggi pomeriggio, classica partitella del giovedì in casa Teramo Calcio. Mister Vivarini farà le prove generali in vista del match di domenica contro l'Arzanese. Match che in caso di risultato positivo regalerà ai biancorossi la matematica promozione in Serie C unica. Intanto domenica scorsa il terzino Roberto Masullo ha segnato il suo primo gol stagionale con la Maglia del Teramo. Lo abbiamo ascoltato. Masullo, domenica hai segnato il tuo primo gol stagionale con la Maglia del Teramo. Quali emozioni hai provato nell'andare in gol dinanzi al pubblico del Comunale di Piano Daccio? Una bella emozione perché per un terzino non capita spesso di segnare, però la cosa importante è la prestazione della squadra, la vittoria e poi ben venga la soddisfazione personale. Non è stato il tuo primo gol in carriera, avevi già segnato l'anno scorso? Sì, avevo segnato già l'anno scorso a Bellaria contro il Milazzo. Il tuo gol comunque è stato importante per sigillare il vantaggio del Teramo, siete andati al riposo sul 2-0, dopo nella ripresa non c'è stato più partita. Sì, è stato importante perché subito dopo l'espulsione comunque del difensore della Mezzia, quindi per loro sicuramente non è stato facile. Comunque già nonostante l'espulsione, poi il 2-0 sicuramente gli ha tagliato un po' le gambe. Probabilmente avete faticato un po' nei primi 35 minuti a prendere le misure alla vigor della Mezzia. Sì, loro comunque erano una buona squadra organizzata con grande individualità, però noi abbiamo fatto la partita come l'avevamo preparata, con molta attenzione e poi abbiamo sfruttato al meglio le palle e gol create. Il gol che hai segnato domenica ti aspetti che possa essere anche determinante in vista del futuro, di un probabile possibile rinnovo del contratto? Ricordiamo che tu hai il contratto in scadenza giugno. Sì, sicuramente spero comunque che possa contribuire per un chiave futuro per me, però adesso mi concentro sempre come ho fatto fino adesso, questa settimana, cercando di continuare comunque sulla strada intrapesa. Sei soddisfatto di quello che hai fatto finora qui a Teramo e come ti aspetti di chiudere questo finale di stagione? Sicuramente sono soddisfatto, però c'è ancora tanto da lavorare, mancano ancora quattro partite, dobbiamo raggiungere un obiettivo importante ancora e quindi ci tengo a far bene per chiudere al meglio il campionato. Facciamo un po' di numeri, secondo te quali sono le possibilità del Teramo di arrivare al primo posto in classifica? Le possibilità ci sono perché comunque abbiamo dimostrato di non essere inferiori a nessuno quando siamo in giornata e quando facciamo quello che sappiamo fare. Però adesso c'è il Cosenza davanti e naturalmente dovremo sperare anche in un passo falso loro. Anche per quest'anno l'Aquila Calcio promuove la vendita delle uova pasquali rosso-blu fatte di cioccolata, latte fondente con il logo della società aquilana sulla confezione e con all'interno gadgets ed un appena in omaggio griffate l'Aquila Calcio. Le uova sono in vendita dal 2 aprile al prezzo di 11,90 euro e parte dell'incasso verrà devoluto dall'Ollus l'Aquila per la vita, partner sociale rosso-blu. E' proprio tutto per questa prima edizione del nostro telegiornale ma restate su Teleponte perché tra breve la replica di Calembur è a seguire basket in basket. E questa sera alle 21 non perdete la puntata di diritto dovere condotta da Rino Orsatti nel corso della quale saranno presenti i candidati sindaci del comune di Silvi. E' proprio tutto, grazie per l'attenzione e buon pomeriggio. Grazie a tutti.